Ragazzi, oggi vi parliamo di un libro che se non lo conoscete e non ce l'avete è grave, 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 grave. Cartellino giallo. Cartellino giallo, sigla. Cartellino giallo, sigla. Gli americani, Robert Frank, libro che, ripeto, è uno dei grandi classici che bisogna assolutamente conoscere, non perché debba essere il vostro autore preferito, che lo capisco, che magari a qualcuno non piace o preferiscono magari altri autori, ma perché Robert Frank ha aperto un filone, un modo di fotografare, o quantomeno ha rotto un modo classico. E sinceramente aggiungo io che ha fatto scoprire in parte agli americani l'America, non solo a noi, ma soprattutto… E c'è voluto uno svizzero. C'è voluto uno svizzero. In cui, diciamo, l'insieme delle foto è espressione poi delle foto singole, quindi va visto un po' nel suo insieme. Insomma, veramente è un grande libro. Adesso lo andiamo a sfogliare, magari lo commentiamo e vi raccontiamo qualcosina, insomma, anche della vita di Robert Frank. Dai, andiamo a vedere il libro e poi ci rivediamo qui. Allora, Roberto, eccoci qua col libro Gli americani, Gli americans, per Robert Frank, che è un libro edito da Contrasto, intanto lo diciamo ai nostri amici. Devo dire, è stampato anche bene, eh? Stampato veramente molto bene, come bianco e nero. Formato, è tutta una riflessione interessante sul formato. Sì, guarda. Siamo abituati a mega libri. A mega libri che pesano otto chili e mezzo, invece è formato fantastico, piccolino, quasi una sorta di diario, infatti tu ce l'hai sul comodino. Ce l'ho sul comodino. La tua Bibbia. Perché per me questa è la mia Bibbia. E questa è la mia Bibbia. La Bibbia di Roberto. Sì, un libro che è fantastico, insomma, da avere. Allora, introduzione, insomma, anche di un famoso poeta della generazione Beat. Sfogliamolo pure, intanto che raccontiamo un po' ai nostri amici anche due scenni sulla vita di Robert Frank. Sì, di parlare un po' di quest'autore veramente importantissimo. Importantissimo a livello fotografico, sì. Allora, intanto, vabbè, lui è tedesco di origine, Roberto sai, sa benissimo. Poi si è trasferito in Svizzera e pochi sanno che è stato, insomma, tecnicamente Robert Frank, nonostante molti l'hanno criticato, poi magari ne parliamo anche più avanti, per lo stile un po'... Diciamo controcorrente per quello che era lo stile dell'epoca, no? Sì, uno stile, insomma, sicuramente, tecnicamente un po' sgrammaticato, tra virgolette. Lui era il responsabile tecnico del più importante studio fotografico svizzero, che all'epoca, ricordiamoci, non c'era il digitale, era ovviamente tutta a pellicola. No, poi all'epoca l'Europa era molto avanti, come scuola di fotografia. Assolutamente, insomma, era tra l'altro l'epoca, insomma, della fotografia, banco ottico, medio formato, insomma, molto tecnica. E lui, quindi, aveva una grande conoscenza anche tecnica, si è praticamente poi, ha fatto, diciamo, il pendolare tra l'Europa e l'America. Non dimentichiamo che era di origine ebrea, e quindi, negli anni della guerra, ha avuto grossissimi problemi. Sì, vabbè, con lo suo, anche William Klein, tra l'altro, che è un fotografo che in certi versi può essere assimilabile a Frank, effettivamente, anche lui era di origine ebraica, se non ricordo male. L'altra cosa, che magari non tutti sanno, è che Robert Frank, che è conosciuto per un taglio più fotogiornalistico, in realtà lui ha fatto anche il fotografo di moda per Bazar all'inizio. Anzi, quando è andato negli Stati Uniti, è stato il suo primo lavoro. È stato il suo primo lavoro, poi si è rotto le balle dopo poco. Mi pare, gliel'ha consigliato Evans, no? Evans, se non ricordo male, gli consigliò di partecipare a una borsa di studio del Guggenheim. Il progetto sugli americani, appunto, dal cui è nata questa pubblicazione. Lui praticamente partecipò, tra l'altro, dicendo tra le motivazioni per le quali voleva fare il progetto, perché è un conto che l'America la vede l'americano, è un conto che l'America lo vede da un occhio straniero, non occhio europeo, che poi in antropologia è il famoso sguardo trasversale, no? Che viene così definito, cioè nel guardare in maniera distaccata, disincantata e anche disinnamorata praticamente la realtà. Sì, è una sorta di distacco psicologico che può essere influenzato da preconcetti. Uno che nasce in quello stato sicuramente non sa essere teoricamente così obiettivo come uno che viene da un altro ambiente. Beh, è molto facile cadere in cliché, in stereotipi. Esatto. E quindi, vabbè, insomma, lui vinse questa borsa di studio. Il progetto di Americans, due dati tecnici interessanti, 1955-1956, un anno in cui Evans, con la sua forma... Quindi, ragazzi, vi comunico che questo libro è la mia età, eh? Cioè, ragazzi, colpo di scena. È praticamente in lacrime. È bello anche che ce l'ho sul comodino. È in lacrime. Allora, 1955-1956, un anno, ha girato 48 stati con la moglie e due figli. Veramente, altri tempi, oggi, arriverebbero i servizi sociali e ti portano i figli. Beh, ma è stato bravo, non li ha mollati a casa. Non li ha mollati a casa. 600 si è preso, se non ricordo male, adesso se dico una balla, ragazzi, ma balla, una cosa non precisa, magari correggetemi. Comunque lui partì con 687 rulli bianco e nero, tutti i 35 mm. Ecco, anche questo, no? Un tema interessante, intanto che sfogliamo il libro e i nostri amici vi facciamo vedere. Lui, praticamente, scelse il 35 mm perché? Perché aveva l'idea di questa spontaneità nella fotografia. Ricordiamoci, Roberto, perché magari non tutti si rendono conto, oggi per noi il 35 mm è qualcosa di scontato. 35 mm all'epoca c'era il meglio formato, il banco ottimo era... Sì, cioè, ci si riempie la bocca, scusatemi la parola, del full frame. Esatto. Ma allora il 35 era come... Che è un termine di marketing puro, oltretutto. Sì, era come parlare di capocchi di spillo. Sì. Quindi uno che voleva la qualità sicuramente non andava sul 35. Beh, come minimo la Rolleiflex, tra l'altro c'è questa foto, ragazzi, guardate qua, è poesia allo stato puro. Questa qui era, insomma, una tata, una bambinaia di colore e il bambino... E la contrapposizione esasperata tra quello che è il servilismo e la povertà e il colore del popolo afroamericano, con invece la purezza e il bianco del popolo americano. C'è da dire che qui, diciamo, rappresenta un po' anche come l'amore è trasversale, cioè non supera un po' che non è, adesso sembra retorica, però effettivamente è così. In più foto, ragazzi, Robert Frank fa emergere queste contrapposizioni molto molto forti del popolo americano. Ma proprio per quello, è proprio perché lui non è americano che li ha fatti venire ancora più fuori. Certo. La conferma, la conferma ulteriore. Sì. E vabbè, comunque, insomma, 687 rulli da 35 mm, di queste, moltiplicate per 36, quindi 687 per 36... 3 per 7 è 20.000 foto. Cioè, ecco, la mia scelta è 83. Sì. 83 foto. Cioè, un lavoro di editing straordinario. Tra l'altro, questo è molto interessante, ragazzi, come spunto, lui fu uno dei primi a... perché all'epoca si ragionava per mostre, stampe singole, no? alle singole opere. E invece lui, per la prima volta, disse no, il modo migliore per esprimere, per raccontare la fotografia è attraverso un fotolibro, che va visto però nella sua interezza. Quindi non è la singola foto che ti dice qualcosa, che sicuramente ogni foto qui ti dice tanto. No, ogni foto racconta, ma lo scopo finale è unire tutti questi racconti in una sorta di, chiamiamolo film, nella narrazione. Quindi lui, in 83 foto, 86, non mi ricordo, ha voluto raccontare l'America del 55. Sì. A me la cosa che sconvolge, Roberto, di questo libro qui, intanto, la prima cosa è che è un libro, ragazzi, se lo prendete, vi consigliamo di vederlo, poi lo rivedete. Sì, vuole macinato, metabolizzato, assorbito, dovete proprio cercare di farvelo entrare. Forse, vabbè, io, diciamo, non sono l'obiettivo del tutto, perché adoro questa pubblicazione, ma vi deve entrare dentro. Una visione superficiale vi può lasciare qualcosa di insipido in bocca, poco sapore. Sì, uno vede una foto di questa qua e dice, ma cos'è sta roba qua, no? Cioè, è una foto, eppure se uno la guarda, la riguarda, la riguarda ancora, esce fuori tutto il genio di Robert Frank, perché per me Robert Frank è oggettivamente un genio, poi può piacere o non piacere, appartenere o non appartenere allo stile, il modo di fotografare, ma... Ma guarda, io non lo so, ti dico che non può non piacere. Ma io non lo so, questo sembra un po' non piacere. Io dico una cosa, che sicuramente è stato intanto una persona che in quel contesto, ripeto, oggi alcune foto sembrano banali, banali tra virgolette, no, banali è il termine sbagliato, sembrano, cioè, sono viste, no? Insomma, oggi c'è questo... Eh sì, ma perché in tanti poi l'hanno emulato. Eh sì, ma torniamo negli anni, questa è una foto famosissima, insomma, tra l'altro lui racconta che anche l'impaginazione è in un'emettia chiave, vedete qui ragazzi ci sono... La verticalità. Esatto, elementi chiavi, elementi scuri, e lui l'ha impaginato proprio per richiamare vedete, quindi l'America è fatta da tanti spaccati, quindi la bandiera americana, vedete, tante tipologie sociali, o cedi sociali, e quindi ancora una volta il fotolibro come strumento fantastico per il fotografo, per la narrazione, in un unicum narrativo. Ed è stato, come hai detto giustamente, il primo. È stato, non so se è stato proprio il primo in assoluto, questo sinceramente non lo so, ma è stato sicuramente uno dei pionieri in questo tipo di approccio alla fotografia, e anche l'impaginazione, l'editing, che è un lavoro maniacale. Ragazzi, immaginate voi, adesso, entrate, immaginate di essere negli anni 50, in un periodo in cui la fotografia era piuttosto formale, piuttosto, a volte anche retorica, nel modo di comporre, di inquadrare, e che cosa raccontava. Tu racconti in maniera completamente nuova, sgrammaticare, elimini le sovrastrutture. Controcorrente, scusa, a tal punto che in America si sono rifiutati di pubblicare. Esatto, esatto, bravo Roberto, tant'è che fu in Francia, che venne pubblicato il libro, adesso non ricordo esattamente, nel 58, non ricordo la casa editrice francese. Comunque due anni dopo il fine dei lavori. Esatto, e fu talmente famoso che a quel punto in America capirono che erano indietro come il chicchinello. Esatto. E pubblicarono, insomma, questo lavoro che è diventato poi un classico della fotografia. Allora, dicevo, la cosa che, ragazzi, a me sconvolge, come in quel periodo storico tu fotografi eliminando completamente le sovrastrutture a cui siamo abituati, compositive, esposidisposizione, eccetera, e quindi vai a selezionare foto che tra 20.000 foto, quelle che erano, insomma, che apparentemente presentano in alcuni casi degli errori, chiamiamoli difetti, ma che sono densi completamente di significato. significato che tra l'altro non è banale. Cioè, questo è un esempio di foto incredibile che racconta veramente tanto e tu pensa, Roberto, ad avere la lucidità di decodificare la realtà. Per me è una cosa sconvolgente. Perché era questo piccolo svizzero, come lo chiamavano, aveva una sensibilità fotografica all'ennesima potenza e una sensibilità a quello che è il mondo, a quello che era la vita, a quello che era la vera merita di quegli anni. E lui è riuscito a metterla su un foglio di carta. Perché questa foto in sé si unisce a tutte le altre, ma racconta tantissimo. Cioè, se voi l'osservate, voi siete dentro questa foto. Siete con queste persone di origine, penso, messicana. Sì, sudamericana. Sudamericana. Il jukebox, che è insomma un cliché, un cliché, un cliché di quel periodo dell'America. Insomma, è una cosa straordinaria riuscire appunto a decodificare tutto questo, accoglierlo. Vuol dire, Roberto, che ci devi entrare dentro a quelle realtà lì, non devi scappare da quelle realtà, perché quando c'è qualcosa che ci disturba è molto facile girare la testa dall'altro lato, non vedere, invece lui l'ha vista. Quindi questa, tra virgolette, purezza, adesso non vogliamo esaltare o diventare noi retorici, però questa purezza, questa libertà di visione è sconvolgetta. A me sta foto fa impazzire, perché questa è una foto di paesaggio quasi a livello di topografici, insomma, di denuncia un po' dell'agropizzazione. È un po' una sorta di foto documentaristica, come andava molto, di fine 800, inizio 900. Ma guarda dove è stata fatta. È stata fatta nel Montana, dove se uno pensa al Montana, cosa pensa? A niente. No, attenti, veramente gli avro pezzo. Cioè, Roberto è cittadino proprio nel midollo osso. Io a Montana penso ai prati, penso. A Montana penso alla carne, sì. No, quella era il simbretto, c'era anche la carne montana. Sì, sì. Vabbè, comunque, nel Montana io penso, sì, ai cavalli, alla natura, ai paesaggi, no? Eppure lui ti racconta una cosa completamente diversa. E anche i toni della fotografia? Beh, sono strepitosi. Fanno sì che questa immagine sia apprezzata ancora di più. Sì. Ti faccia entrare ancora di più in quel periodo, in quel tempo. Sì, oggi i nostri amici digitalisti avrebbero tutto schiarito. Certo, HDR a volontà. Sì, certo, perché se no la gamma dinamica. E poi la tenda e la verba era aperta. Quindi, ragazzi, c'è una grande, ovviamente noi, cioè, scherziamo anche un pochino su certe cose, però veramente è una grande visione. Io sono, per me, Roberto, questo libro dovrebbe essere obbligatorio per leggere chi inizia a fotografare. Io lo farei addirittura obbligatorio alle scuole medie. Sì. Perché ti fanno capire anche un periodo storico. Sì. Anche negli istituti di arte, eccetera. Proprio far capire come la cultura del like, che è una cultura che sta distruggendo l'intelligenza umana, ne sono pienamente convinto, apro una parentesi all'altra, ragazzi. Eh, ma non so... Provate a immaginare se uno pubblica una cosa del genere, no? Cioè... Quanti like prende, no? Cioè, niente, no. Perché poi questa regola, dai. Già, pure pure. Ma ci sono altre, perché il brutto non si può far vedere. E invece questa foto, che è sgranata, non è completamente nitida. Qui hai la caviglia tagliata, no? Sì, un pezzo di borsa, non ci sta. Cioè, tagliala così. Ricordiamoci che lui lavorava nel mondo della moda. Per cui non è che non sapesse... Assolutamente. Come inquadrare, come... Cioè... È come quando si dice, no? Impara le regole per poi... E dimenticarle. Non applicarle. E questo è un esempio lampante. E di come vai praticamente al contenuto, no? Anche qua il significato, l'espressione del volto. Questo è un testimone di Geova, no? Insomma, quindi anche una cultura fatta da tante, appunto, subculture religiose straordinarie. Cioè, è qualcosa di veramente straordinario. È incredibile. Commettiamo anche qualche foto, adesso ci siamo persi un po' in chiacchiere. Sì, ma quando mi soffermo un attimo, anche questa è una foto che racconta, nella sua semplicità, la contrapposizione tra queste due strutture, questa terra piatta degli Stati Uniti. Ma poi tu immagina, Roberto, all'epoca far vedere una foto del genere con un palo. Tagliare un palo così, no? È qualcosa di impensabile, ma è geniale. Ed è stato fonte Robert Frank, fonte di ispirazione per tantissimi fotografi, di reportage, di fotogiornalismo, per certi versi anche di paesaggio. Insomma, oggi la chiamano la street photography, ma insomma, comunque, veramente... Mi ha fatto racconta. Guardate anche, mi soffermo un attimo su quella che è l'esposizione, no? Qui questa foto, esposta come sui toni chiari, da proprio l'idea del caldo, della luce. Per dire questa è tutta... E l'occhino, tutta a toni scuri. E toni scuri. Ti fa capire anche la cupezza del locale, una sorta di tristezza. Qui c'è concentrazione su quello che è questo soggetto. Qui c'è senso di respiro e di luce e di caldo, di siccità. E difatti l'ha fatto esattamente in strada, cioè d'estate, in Nebraska. E questa qui è la foto che... Qui c'è un po' una storia dietro a questa foto. Questa è l'auto di Frank. Lui ha incontrato due ragazzi che volevano fare autostop. Sono due ragazzi, chiaramente, non di origine prettamente americana. Sono americani, ma sono meticci, sono indiani. Beh, uno dei due, penso. Comunque, nella storia... Non faccio che tu non le guardi. No, sinceramente nessuno le avrebbe presi specialmente a quel tipo. In quell'epoca, sì. E invece Frank ha detto che erano solo due ragazzi che volevano andare a letto. Volevano andare a riposarsi. Lui li ha fatti prendete e guidare. Loro ben contenti di guidare. E l'ha praticamente fotografato in questo modo. Anche qui, cioè, taglio completamente diverso. Sì, questo primo piano sfocato. Molto moderno. E' incredibilmente moderno. C'è una cosa pazzesca. Anche questa immagine, no? Se voi la osservate, l'occhio vi cade su questa signora ammetizia che sembra che se ne frighi del mondo e di tutti che si fuma la sua paglia. Ti gli ha fatto male? Il fumo fa male? È palese? Beh, comunque. Mamma mia, c'è una pelle che è un arancio di zucchino. E' una ammetizia anche questa donna, questa anziana. Praticamente ognuno si fa i cavoli suoi e lei si fa i cavoli suoi ancora più di tutti gli altri. E lui è accorto a questo momento. Tanti piccoli spaccati. Questa è una foto super... Ma questa è una foto iper conosciuta. Lì per lì non dice niente. In realtà anche qua c'è una piccola storia che nel libro, ragazzi, leggetevi sempre anche le introduzioni. Ovviamente... A parte che questa introduzione è fatta veramente coi fiocchi. Sì, insomma, è una storia. È una storia fantastica. E qui praticamente siamo a Long Beach in California. Praticamente è un falegname che aveva questa macchina e aveva messo questo telo iper, come dire... Protettivo. Protettivo, fine, insomma, un po' ricercato perché non voleva che ci fosse della puligine che cadesse sopra la macchina. E puligine in California non c'è. A Long Beach, la vedo dura. Almeno in quegli anni. E viveva, guadagnava pochissimo, racconta... Sì, due dollari al giorno. Una cosa del genere e viveva in una casa, insomma, guardate in casa. Eppure aveva una massima cura per la macchina. Status symbol. Foto fantastica, Roberto. Facciamo vedere anche un po' le foto. Chiacchieriamo. Vabbè, qui credo che si commetti da solo. Bramolin con bandiera americana. Quindi simbolismi a Google. Qui c'è lui. Sì, perché lui si racconta che fotografava tantissimi funerali. Sì, beh, questo è un parrucchiere. Tantissime barberie. Sì. Perché? Perché erano specchi proprio dell'America di allora. Cioè, era cose che mai nessuno ha pensato di fotografare. Sì, qualche foto di qualche barbiere è stata fatta, ma non con questo stile, assolutamente. E tanto meno funerali. Adesso lui viaggiava ogni tanto, prendeva anche il treno. E ha fotografato questa... Chi gli sarebbe venuto in mente di fotografare un pazzo che si è fatto il tettuccio con la bandiera americana e che si scola, non so, da bottiglie di Tokai. Ed era... E raccontava il narratore, quello che ha fatto l'introduzione, che era una cosa tipicissima. Cioè, tu si viaggiavi in treno. Spessissimo ai lati della ferrovia c'erano... Della ferrovia c'erano queste costruzioni. Sembrava semiabbandonate. Ed erano i luoghi normali in cui abitavano gli americani. La maggior parte degli americani di allora. Beh, la cosa interessante è che lui spesso, anche perché poi è vero in America è così, ecco, una cosa, due riflessioni. Uno, che lui diceva, lui spesso utilizza le bandiere come unico, come legame tra molte immagini, perché effettivamente, nonostante fossero 48 stati, lui ha girato 48 stati, insomma, tra tutti quegli americani, costanti con tante diversità, tante contraddizioni, però, alla fine, in America, la bandiera è dappertutto. È dappertutto. E un'altra cosa interessante, questa è l'America, perché noi siamo abituati a vedere l'America dei grattacieli, delle grandi opere, eccetera, ma in realtà, ancora oggi, se tu vai nella parte, chiaramente, più remota, più distante dalle grandi metropoli... La parte rurale, diciamo. Sì, dove esiste la parte rurale, cioè periferica, vedi cose di questo tipo, cioè vedi a volte delle baracche, delle cose che è incredibile. 50-60 era ancora più accentuata, questa cosa, anche perché noi poi vedevamo un'America patinata, hollywoodiana, del benessere. Sì, che era la cultura che chiaramente volevano diffondere e far passare. I classici distributori. Giubbox, immancabile. Anche questa, insomma, è una foto abbastanza conosciuta. Sì, questa è una foto che... È un ascensore, no? Sì, questa è una ragazza che era, ragazza di allora, era detta l'ascensore. È saputo accogliere questo sguardo. Guardate lo sguardo di questa ragazza. È contornata da come fossero figure terre, fantasmi. Sì, qui c'è anche un discorso sociale, come una lavoratrice ovviamente umile per il tipo di attività che faceva. Qui era sicuramente un hotel, persone benestanti, lo si intuisce. E quindi anche questa contraddizione, appunto, nei ruoli sociali espressi tramite il lavoro. Però l'utilizzo dello sfoccato del mosso, allora, non è che... Ma è fantastico, cioè, è una cosa... E lo sgranato è diventato linguaggio. Ecco, Robert Frank ha anche introdotto, insomma, come Klein con il fuorifuoco, no? Nei soggetti in primo piano, insomma, il famoso drive-in americano. Qui siamo nel sud degli Stati Uniti. In Louisiana siamo sul Mississippi. In Mississippi. Comunque, vedete, proprio è un piacere sfogliarlo ed è un racconto. Qui tre croci... Bello, ragazzi qua... C'è stato un incidente, sono certi tre morti, le tre croci lungo la strada dove è stato l'incidente e questa luce non fatta in posposizione. No, non credo che abbia utilizzato il Doge e il Barn. Il Barn. Comunque, ragazzi, noi vi consigliamo assolutamente di... di prendere questo libro, di sfogliarvelo, di studiarvelo, di metabolizzarlo e di cercare di capire come alla fine questa mania del tecnicismo che anche noi, forse in parte, andiamo a... Sì, 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 anche noi siamo... Concorriamo un po'. Deve essere, come dire, un'autoanalisi, un'autoriflessione sul fatto di a volte superare le sovrastrutture e cercare i contenuti. Sì, sicuramente la tecnica ci vuole, uno deve sapere fotografare, questo qui non ci piove, però bisogna concentrarsi su quello che dobbiamo trasmettere, sul contenuto. Sì, è un invito, no? Questo qui sulla ricerca del contenuto. Ma anche in autocritica, eh? Sì, sì, no, ma infatti è qualcosa di veramente importante. Oggi si è perso parecchio e credo che la cultura dei social, adesso non voglio essere polemico, secondo me non aiuta affatto, almeno quello massificato. Poi ci sono chiaramente cose straordinarie anche... Sì, c'è più una cosa già detta, più l'apparire che il vero essere, poi alla fine. Si cerca solo il lato estetico, ma non si cerca di rappresentare il racconto, la storia. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto vedere un po' di foto di Robert Frank, foto meravigliose. Allora, Roberto, tiriamo un po' le somme su questo libro e li facciamo vedere. Gli americani, Robert Frank, edizione Contrasto. Allora, ragazzi, eccoci tornati. Tiriamo, insomma, le somme. Il libro, Roberto, ripeto, l'abbiamo detto prima, vi abbiamo fatto vedere il libro. Il ripetuto più volte durante, insomma, la nostra chiacchierata. Spero che vi abbiamo, come dire, motivato ad acquistare questo libro, che tra l'altro non costa nemmeno una cifra. No, per come è stampato, per il suo contenuto, è quasi regalato, guardate. Sì. Io adoro il formato piccolo, devo dire, ultimamente, ragazzi, non so, sono tratto molto dai formati più piccoli, anche di stampa. Comunque, libro meraviglioso, ragazzi, dai. Cercate e approfondite Robert Frank, autore, che veramente ci ricorda di come spesso noi siamo alla ricerca di belle foto, ma che in realtà dovremmo soprattutto seguire e cercare delle buone foto, delle foto che hanno del contenuto e lasciano un segno. Questo è veramente il messaggio, secondo me, chiave alla fine di tutto della fotografia di Robert Frank. Meritiamo, ragazzi. Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto il video, metteteci un like e iscrivetevi al canale. Molti di voi ci vedono e si dimenticano di iscriversi. Per voi è una piccola cosa, per noi significa avere l'opportunità di offrirvi contenuti sempre più interessanti e maggiore. Per cui, aiutando noi, aiutate in qualche modo anche voi. Iscrivetevi al canale, vi ricordo anche promiroles.it, c'è anche un gruppo Facebook sempre su Promiroles. Quindi cercate Promiroles su Facebook. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vi salutiamo. Ciao, ragazzi.